Grazie Presidente, cari colleghi e signor Commissario. Il negoziato è difficile, con forti interessi contrapposti e anche con interpretazioni diverse sulle conseguenze di questo accordo. Ora, quando capisco, lo stadio attuale del negoziato prevede una disparità di trattamento tra indicazioni geografiche e marchi a favore di quest'ultimi, con la intangibilità in spregio all'articolo 22 dell'accordo TRIPS dei marchi che utilizzano denominazioni tutelate da indicazioni geografiche, quali ad esempio Parmesan, ma è soltanto uno dei tanti casi possibili, che potrà essere liberamente prodotto come Parmesan da Stati Uniti a Australia ed esportato in Cina o altrove in diretta concorrenza con le produzioni europee, che hanno come uno dei punti di forza proprio le loro indicazioni geografiche, che si troverebbero a sostenere una concorrenza sleale senza alcuna efficace protezione da parte dell'Acta. Vorrei un chiarimento sotto questo profilo. Ma Parmesan vuol dire di Parma, non australiano o USA, ed è così per ogni indicazione geografica europea. Facciamo attenzione perché se nella globalizzazione del XXI secolo tra qualche anno non avremo più le nostre indicazioni geografiche, sarà anche per le scelte sbagliate di oggi e perderemo un pezzo enorme della nostra identità. Sotto questo profilo, se tutto ciò fosse permesso dall'Acta, l'accordo è inaccettabile. Poi c'è l'aspetto di Internet. Già ricordato, l'Europa è a favore di una società della conoscenza diffusa, di un sapere aperto a tutti e l'Acta non deve costituire in nessun modo una restrizione della libertà di accesso a Internet. Molto su questo è stato ottenuto, il Commissario ha dato delle rassicurazioni importanti, ma sarebbe inaccettabile che la Chico Monetair sia scalfito, come ancora appare, dalla possibilità delle ingiunzioni giudiziarie previste dall'articolo 2, dalla possibilità di sanzioni penali anche per utilizzatori individuali, come previsto dall'articolo 2 nella parte 14.1. Apprezzo le rassicurazioni importantissime sull'accesso alle medicine per i Paesi di sviluppo, ma sappiamo che la lista dei Paesi aderenti all'Acta è molto limitata ed esclude le grandi potenze della contraffazione, in particolare quelle asiatiche, ma non solo. E per questo, grazie al tutto da perdere sulle indicazioni geografiche e ai rischi su Internet, l'impressione per ora è che l'accordo sia solo uno svantaggio e su questa base forse è meglio lasciar perdere. Grazie.